La Spagna è entrata nella storia come primo paese europeo a chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite l'autorizzazione a unirsi alla causa del Sudafrica che accusa Israele di genocidio a Gaza. Il Sudafrica ha presentato la causa lo scorso anno, sostenendo che le azioni militari di Israele violano la Convenzione sul Genocidio. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha annunciato la decisione, sottolineando l'impegno della Spagna per la pace a Gaza e in Medio Oriente. Nel frattempo Israele nega le accuse di genocidio. La Corte ha chiesto di fermare immediatamente l'offensiva israeliana a Rafa, ma al momento le operazioni di Israele continuano.